Fratelli e Razzurri, amici di Facebook e Instagram, buonasera a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale e ci siamo, ci siamo dai, la notte delle streghe, alla fine è stato per qualcuno la notte delle streghe, no? Avevo messo questa grafica, era il 24 ottobre, quindi una settimana fa, e insomma gli ha portato abbastanza, è andata come doveva andare ragazzi l'Inter prima di tutto ha vinto perché quella era la cosa principale, la gente si è sfogata, lo ha fischiato, gli hanno dedicato dei cori simpaticissimi ecco insomma ma strameritati e ha fatto la figura del cioccolataio che ha toccato tre palloni e dall'altra parte ha segnato il numero 9 facendo una prestazione della Madonna quindi la perfetta notte delle streghe gliel'abbiamo gufata e gli è arrivata, gli è arrivata, no perché mi ricordo che settimana scorsa quando ero a Top Calcio, a proposito, ieri ero a Top Calcio 24 e più tardi vi posto il mio intervento settimana scorsa, quindi il post partita e si parla ovviamente dell'ex 90 invece settimana scorsa che avevo già sta grafica, qualcuno speriamo che sia per te la notte delle streghe, in tuo culo, in tuo culo perché ovviamente sai quanti gufi erano pronti lì oppure su quel colpo di testa di Cristante, sai come stavano? purtroppo ragazzi l'Inter fa male, l'Inter capolista, l'Inter che vince fa male fa male, lo vedi soprattutto finché il Milan è primo, certi soggetti stanno nel loro poi ripeto, sono ossessionati dall'Inter, hanno veramente un grosso problema e poi si ritrovano anche a fare delle figure di merda, ma delle figure epocali di merda perché poi se vai a sfogarti e a commentare un'immagine fake quando poi il video fa vedere no perché è venuto fuori ragazzi, sono venute fuori due cose fake, una la devo ancora verificare l'altra è clamorosa, parliamo di quella clamorosa dove lo sbadigliatore, lo ripeto io su certe trasmissioni non ho problemi a dire, ho CV, fino a due anni fa sono andato due o tre volte quattro volte, poi ho visto com'era, ho visto poi tutto quello che fanno anti-Inter soprattutto uno, il cappellone, quello ex grande fratello, lo sbadigliatore, quello che sbadiglia su Instagram, quello che su Instagram prima provoca e poi ti risponde con lo sbadiglio siamo arrivati a livelli eccezionali, siamo arrivati a livelli eccezionali lo sfogo e la rabbia contro l'Inter perché Di Marco avrebbe toccato la palla con la mano sta girando sta foto, oh ma vi volete riprendere? voi avete l'ossessione che è l'Inter, ma cazzo fatevi una vita pensate alla vostra cazzo di squadra che schifo, che schifo ci fanno anche i video su queste cose qua invece di verificarle prima pensa che figura di merda quindi sono fiero di non andare lì, ok? io, mio nome, quello che è, quello cos'è, 8000 adesso, 9000 quello va benissimo così, non ho bisogno di crescere con l'aiuto di certi personaggi quindi invito tanti interisti a guardare non di non andarci, mancherebbe, ognuno fa quel cazzo che vuole ma guardate anche durante la settimana cosa pubblicano contro l'Inter magari andate lì e replicate, questo mi sento di dire quindi sono ossessionati, sono ossessionati cioè Dimash sul lancio di Aslani la metterebbe giù con le mani, hai capito? invece sul gol di Pulisic non mi dicono un cazzo sul tocco lì di braccio lì è tutto a posto, hai capito? qui fanno i video sfoghi e le figure di merda su un foto no, su un fermo immagine fake, non lo so cioè, da lato invece il video dimostra proprio che la mano non la vede proprio, non la vede il video, perché dovrebbe far fede un video poi c'è un'altra cosa che sta girando questa da parte gobba invece l'ho vista su Facebook, l'ha pubblicato un mio amico ma dubito che sia veritiera perché ci sono delle banane in curva e dicono, ah queste cose qui non le fanno vedere peccato che la curva Nord ormai da un po' di tempo ha uno striscione unico ok? non c'è più lo striscione irriducibile perché in quella foto si vede irriducibili quindi, quante cazzo di robe fake stanno girando aprite gli occhi a chi ci segue anche a noi su YouTube aprite gli occhi e le orecchie guardate di chi cazzo fidarvi ragazzi perché è uno schifo, è uno schifo come ritorni lì in testa cioè, di Marco che la prende di mano ragazzi questi veramente, siccome non sanno dove attaccarsi io un consiglio ce l'ho attaccatevi a sto grande cazzo che l'Inter è meritatamente lì prima quindi, scusate lo sfogo ma me l'avete segnalato ma l'avevo già visto perché vado a sbirciare voi dite, ma sì, sì perché ogni tanto devo dare contro a chi rompe il cazzo perennemente contro l'Inter invece di guardare prima il cazzo di problemi della sua squadra questo dico quindi più tardi vi cucate l'intervento a Top Calcio 24 e basta ragazzi questo era il video il video parodia ho caricato un video di un minuto una piccola parodia e la chiudiamo qui con l'ex 90 e gli ho dedicato una mini parodia andatela a vedere sta piacendo molto sono tornato anche su TikTok attenzione ragazzi ok? l'avevo aperto l'account avevo fatto dieci video su Lino Banfi poi non ho fatto più un ghezzo e quindi sto ripubblicando qualche video anche lì quindi se volete seguirmi anche su TikTok diciamo che c'era già il il canale chiamiamolo così però adesso ho pubblicato tre video insomma e basta ragazzi questo è perché poi per il resto dobbiamo solo pensare che adesso abbiamo un calendario che si farà sempre piuttosto abbiamo un sacco di trasferte abbiamo abbiamo Bergamo l'Atalanta che è in una bella scia positiva poi abbiamo il Salisburgo e lì sarebbe cosa buona e giusta chiudere la pratica perché se no se no poi ti trovi che devi giocare le partite importanti dove poi avrai la Juve il Napoli ok la Lazio cioè il calendario adesso è tutto in salita quindi ottimo inizio ovviamente perché anche se ci sono quei punti persi a cazzo di cane ma cosa gli vuoi dire a un inizio così però però adesso viene 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 il bello eh tra virgolette diciamo quello che mi è piaciuto molto che ho visto un Inter in palla per 95 minuti quello che abbiamo visto nelle prime 5 giornate poi ci sta che a seconda della preparazione che fai hai dei periodi magari un po' più in calo o magari lo vedi più che la squadra magari singolarmente chi accusa un po' di più insomma ho visto una squadra tonica in palla che non concedeva un centimetro di campo all'avversario quindi dobbiamo affrontare questo filotto di partite assolutamente così perché ripeto sono partite veramente veramente toste basta ragazzi questo era il video quindi concludiamo con questa grafica di Halloween oggi ultimo giorno quindi buon Halloween a tutti voi festeggiate stasera vedete che cazzo dovete fare e per il resto in tuo culo agli ossessionati ma mica solo lui eh in tv ce n'è ce n'è su youtube ce n'è ce n'è perché io poi vado a vedere anche una volta mi mettevano anche a me nelle reazioni dei tifosi e gli ho detto basta basta mi dovete mollare e dopo l'hanno capito no? ce ne sono un paio di milanisti che veramente o aglio ma veramente ottusi anti interisti che stravolgono proprio la realtà ogni volta quindi ma di che cazzo stiamo parlando pensate prima alla vostra squadra e poi e poi magari fatevi anche una vita perché avere quest'odio e pensare solo all'inter e raccontare delle puttanate e addirittura sfogarsi su delle cose fake è clamorosa la figura di merda condivisione dei video iscrivetevi al canale sempre forza intra attivate la campanella ciao ciao ciao